Il Museo di Arte Contemporanea di Roma ospita fino al 28 febbraio 2009 una installazione appositamente creata per la Hall del Macro dall'artista brasiliano Ernesto Neto. L'opera si intitola While Notting Happens ed è una sorta di architettura fluttuante dalle forme organiche e floreali realizzata in licra e agganciata alla copertura della galleria. L'installazione è attraversabile. L'artista invita il visitatore ad entrare nell'opera e a vivere l'esperienza sensoriale di stare dentro l'opera. Un'esperienza resa ancora più intensa dal profumo delle spezie emanato dagli steli che ne sono impregnati. Un'esperienza inizitabbe L'allie che si intitola apposta L'allie che si intitola a vivere l'opera non è un'esperienza mai lungo. Grazie a tutti